Ciao, in questa lezione ti mostrerò come configurare i blocchi in movimento per far girare e curvare il robot con precisione. Ne abbiamo già parlato in maniera molto semplice in una delle prime lezioni, ma adesso che ne sai di più su operatori e variabili possiamo usare anche un po' di matematica, ma di quella buona eh. Resta fino in fondo che ti svelerò l'arcano segreto dei blocchi in movimento muovi per distanza in centimetri o pollici. Il professor Mattoncini! Nelle prime lezioni abbiamo visto che questa struttura motrice spike è stata progettata in maniera specifica, ovvero la distanza tra le ruote è esattamente il doppio del diametro della ruota. Questo ci ha permesso di impostare i blocchi in movimento in maniera particolarmente semplice, infatti il robot girava di mezzo giro sul posto, con una rotazione delle ruote. In quella lezione, perdonatemi, ma vi lasciai volutamente appesi. Cosa fare se il robot è più largo? Cosa fare se il robot ha delle ruote di dimensioni diverse? Ve lo spiegherò in due modi. Uno, con il metodo empirico, cioè sperimentale, a tentativi. Due, con un metodo analitico, cioè usando una semplice formula matematica e le dimensioni del robot. Adesso ti illustro il metodo empirico. Collega il robot all'app tramite bluetooth. Il cavo usb ti darebbe noia. Poi vai nel monitor dei sensori. Tramite il menu a tendina, scegli di visualizzare la posizione relativa dei motori. Adesso ruota il robot a mano di un giro completo, cercando di non far slittare le ruote e mantenendolo imperniato sul posto. Ora leggi il nuovo valore dell'angolo su entrambi i motori. Se è diverso, puoi prendere il valore medio, cioè sommarli insieme e dividerli per due. Ignora il segno dell'angolo. Prendeli tutti e due positivi. Adesso calcoliamo il fattore di rotazione, come l'angolo fatto dalla ruota diviso 360. Cosa sono i gradi? Per i più giovani devo spiegarlo. In un giro intero ci sono 360 gradi. In mezzo giro ci sono 180 gradi. In un quarto di giro ci sono 90 gradi. Come dice il mio amico Francesco Rossi, fotografo, io sono un ingegnere e quindi a me piace di più il secondo metodo, quello analitico, usando la matematica. Calcoliamo il fattore di rotazione a partire dalle misure del robot, cioè la distanza tra i punti di contatto delle ruote col terreno e il diametro della ruota. Questa è la formula. Gradi da fare uguale a L fratto D per A. A è l'angolo di cui ruotare il robot sul posto. L è la distanza tra i punti di contatto a terra delle ruote in centimetri, pollici o unità allego. D, che è il diametro della ruota in centimetri, pollici o unità allego. Mi raccomando, le unità di misura di L e D devono essere la stessa perché questo rapporto L fratto D deve essere un numero puro. In questo caso L e D sono parametri costanti per un robot. Una volta calcolato questo fattore, che chiameremo K rot, L fratto D, questo sarà costante, al mio editor non piace rot come parola, come vedete. Una volta calcolato questo fattore di rotazione sarà costante per tutto il programma, anzi per tutti i programmi che gireranno su quel dato robot. Nel caso della struttura motrice di base Spike, K rot sarà uguale a 14 unità allego, che è la distanza tra le ruote, diviso 7 unità allego, che è il diametro delle ruote, che fa proprio 2. Alternativamente potrete prendere un righello e misurare i centri delle ruote, saranno circa 11,2 centimetri, diviso il diametro delle ruote, che sono 5,6 centimetri, che fa comunque 2. Questa formula, fidatevi, funziona, ma la dimostro nel mio libro, The Lego Boost Activity Book. Questo valore ideale che abbiamo trovato, teorico, andrà un pochino ritoccato in base ad alcune prove pratiche che farai sul campo. Specialmente per robot che utilizzano gomme con battistrada largo e morbide, perché le ruote lego non hanno l'aria dentro, sono sgonfie, non sappiamo esattamente poi quali saranno i punti di contatto, specialmente se il robot è sbilanciato, però il valore che abbiamo calcolato sarà un ottimo punto di partenza per le tarature, senza tirare a indovinare. A questo punto il valore che abbiamo appena calcolato andrà salvato in una variabile, che chiamerò k rot, e la scriverò con un valore che abbiamo appena calcolato, tramite il metodo empirico, che verrà 2,02, oppure semplicemente ricordando che la distanza tra le ruote è il doppio del diametro della ruota, quindi k rot uguale a 2. Quindi a questo punto se voglio girare a destra di 90 gradi sul posto, parametro distrezzato a 100%, qui imposto gradi, e andrò a moltiplicare il numero di gradi che voglio che il robot faccia sul posto per la variabile k rot, ad esempio 90. Vedi che la matematica quando si sa a cosa serve è meravigliosa. Il problema è che a scuola non te la raccontano come strumento per risolvere il problema, spesso e volentieri è una mera lucubrazione fine a se stessa, e qui la gente comincia a odiarla, il che è un peccato, perché la matematica è il linguaggio che descrive l'universo così come lo conosciamo. Per supportare il mio lavoro, oltre a iscriverti al canale, a condividerlo sui social dove ti pare, potresti pensare di abbonarti al canale. Con una piccola spesa mensile avresti accesso ai video in anticipo rispetto alla pubblicazione schedulata una volta a settimana. E ora veniamo a svelare l'arcano mistero che si scela dietro il funzionamento dei blocchi in movimento muovi per distanza per centimetri o pollici. Ricordi il nome dal blocco tradotto orrendamente come era? Imposta rotazione di un motore a 17,5 cm con spostamento? In inglese sarebbe set one motor rotation to 17,5 cm moved. In parole povere questo blocco ci permette di dire al robot quanta strada farà con una rotazione della ruota. Poi usando il blocco muovi per distanza in centimetri il robot faceva esattamente la strada che volevamo a noi e di nascosto faceva dei calcoli per sapere quanti gradi avrebbero dovuto girare le ruote. Quindi abbiamo usato questa funzionalità come una black box, una scatola nera senza capire cosa c'era dentro. Adesso è venuto il momento di aprirla questa scatola e capirne il funzionamento. Dici che me ne faccio? Ormai ho il blocco movimento, già bello è fatto. E no! Perché qui si gioca a modino. Giocare a modino significa capire le cose fino in fondo. Se volessi andare avanti mentre monitoro altri sensori pur calcolando la distanza percorsa rispetto a un punto di partenza devo sapere come si fa. Perché se uso il blocco movimento non posso fare altro, non posso interrompermi a una certa distanza sapendo quanta strada ho fatto. Ora ti spiego la formula per capire di quanti gradi dovrà girare la ruota per spostarsi della distanza che vogliamo. La formula matematica è questa. Gradi da fare 115 fratto d, d è il diametro della ruota in centimetri e x è la distanza da percorrere in centimetri. Se io voglio percorrere, specificare le distanze a percorrere in millimetri allora devo specificare il diametro della ruota in millimetri. L'importante è essere coerente. Lungi da me te di arvi con la dimostrazione di questa formula che trovate nel mio libro dell'ego boost activity book. Ma un indizio ve lo lascio. 115 approssima a 360 diviso pi greco. Nel caso del diametro delle ruote standard spike 56 mm o 7 unità al ego precise quindi il parametro costante sarà k dist, il mio editor non piace nemmeno dist come parola sarà 115 o 114 59 diviso 56 che farà diviso 56 farà 2,046 errotti che si può serenamente approssimare con 2,05 e addirittura 2. Adesso rivisitiamo un nostro vecchio programma in cui il robot pattugliava la scrivania facendo un quadrato utilizzando però le nuove conoscenze. imposterò i motori di movimento su c più d e la velocità di movimento sul 50%. Adesso definirò due variabili una chiamata k rot e una chiamata k dist. Imposterò k rot a 2 mentre imposteremo k dist al valore che abbiamo calcolato cioè 2,05. Ripeteremo per 4 volte anziché usare il blocco preconfezionato muoversi per tutta distanza andremo diritti per qui in posto gradi e calcolerò la moltiplicazione tra i miei 100 mm di cui voglio spostare per il fattore distanza k dist. Poi permettetemi di duplicare girerò a destra sul posto di 90 gradi stavolta moltiplicando 90 gradi per clicco col destro e scelgo la variabile k rot quindi moltiplicando il numero di gradi che voglio che il robot giri sul posto per il fattore di rotazione. spero di averti aiutato a fare un po la pace con la matematica. In ogni caso pigia fortissimo sul tasto mi piace. Il prossimo video è impervibile perché rivisiteremo l'algoritmo seguilinea per renderlo super fluido con un metodo di controllo da veri ingegneri. Resta giovane, gioca a modino. Ciao Ciao